Anche i lavoratori della New Log a portare la propria vicinanza ai lavoratori licenziati di Rinascente? Sì, siamo qua, siamo venuti tutti alla solidarietà, ai loro lavoratori, qua perché è un icono della città che chiude, quindi siamo qui alla solidarietà perché è un posto perso a Genova, tanti posti persi a Genova non sono più recuperabili. Allora siamo tutti qua, c'è tutta la cittadinanza e daremo tutto l'appoglio possibile a manifestare perché queste cose qua non succedano più. E voi dopo 47 giorni di sciopero a che punto siete con l'avvertenza? Allora praticamente sì, sono 47 giorni di sciopero e la prossima settimana, se non mi sbaglio il giovedì, abbiamo un incontro in regione, aspettare delle risposte occupazionali perché noi stiamo in una situazione drammatica, noi continueremo avanti con ogni tipo di lotta, sperando che le istituzioni cittadine ci danno una risposta positiva alla nostra lotta. Noi chiediamo prima di essere assunti da Postel perché noi abbiamo lavorato da oltre 20 anni dando un servizio, noi facevamo più del 50% della produzione all'interno, c'è stata anche intermediazione del lavoro, noi andremo avanti con la causa verso Postel, noi chiediamo l'assunzione diretta perché ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto lì all'interno e non è giusto che Postel, sia in un'azienda in parte pubblica governata della posta italiana, ci marginano così e lasciare a casa 26 famiglie. Grazie. Grazie a tutti.